picciotti di sicilia tutto tondo tagliate che c'è c'è continua la nostra rubrica dove mangiare in genio amore con c'è allora siamo alla terza puntata sì che ci vuoi dire ragù di polpo tu ne hai mangiato mai no effettivamente mai perché siamo da polpo in genio però senza chiacchiere andiamo subito a vedere andiamo al sodo amore dai 1 2 3 amoni picciotti che si mangia ed ecco l'antipasto ma è coloratissimo ottima scelta queste sono sarda beccafico e questa è una marmellata di agrume wow e queste sono come si chiama cipolline caramellate io assaggio nel frattempo ma è bella la decorazione sì ah come iniziamo bene iniziamo bene perfetto giusi giusi vieni guarda guarda qui cosa ci ha portato giusi sbagliatti da guti polpo bellissimo grazie grazie mille ma io levo ciò piatti non mi metto tutto davanti ma tu lo vuoi è certo allora un poco pure per te e che cosa ci racconti di questo piatto allora profumatissimo sì il polpo molto tenero ti piace quando parla in italiano no bravo amore vai all'assaggio 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 come la pasta come al dente ottimo allora nel frattempo che aspettiamo gli altri piatti ti faccio vedere qui è dove stiamo mangiando noi da polpo giusto guarda girati e giro piazza pretoria meravigliosa e poi quattro canti sono lì che ci guardano i quattro canti e giro di così continuiamo picchia di appetito vabbè no torniamo da polpa eccoci ma che cos'hai nelle mani guarda qua guarda qui ci fa pigliari amore eh non ce l'avevo tutti crema di patate e il polpo grigliato si chiama polpo grill e te la danno con la padellina la padellina e tutte queste cose ora subito assaggiare subito allora com'è il polpo no la dobbiamo costruire perché tu devi mettere polpo la crema di patate magari ci mettiamo pure una cipolla calamellata un pomodorino ah ti sei fatto il sandwich tu praticamente e scoppio in bocca una bomba cosa stai aspettando con questa faccia ora vedi amore però vedi che bella atmosfera che c'è qui vabbè a palermo la sera si sta benissimo uno si innamora e concludiamo ovviamente col cannolo siciliano ecco un bel cannolo vedo che è bello grosso mi raccomando seguite i nostri video picciotti venite a palermo e da polpa e siete in centro vivendo una passeggiata quindi si conclude così la terza puntata di dove mangiare in centro con carlo ciao picciotti ai prossimi consigli ecco un poicciotti ai prossimi